Buongiorno, io qui in questo paradiso, qui che spettacolo, sto aspettando Carmine che mi chiama per allenarmi, questa settimana si riprende a bomba e torniamo con alimentazione sana e allenamento non stop tutti i giorni, se non tutti i giorni quasi, e riprendiamo le forze per allenarci, che ragazzi allenarci è importante, poi con Carmine che mi allena da anni, veramente io ho trovato il mio equilibrio, comunque dopo questo allenamento mi butto in doccia e corro in aeroporto che ho il volo per tornare a Milano, se mi stai chiedendo se Sergio viene, boh, ancora non l'ho capito sinceramente, capito di sì, però ancora non l'ho capito al 100%, vi tengo aggiornati, chiudiamo con la bellissima Bea Luzzi, le foto del lunedì di Angelica Baraldi e poi Sandra e Raimondo, come sempre un bacione, ciao!